Benvenuto a questo nuovo video di Cultura Italiana. Per oggi ti voglio parlare di un tema molto importante che mi è molto caro, come imparare l'italiano in una maniera naturale. Nelle lezioni passate ti ho spiegato che è molto importante ascoltare e ovviamente parlare, ma per ascoltare bisogna utilizzare gli strumenti giusti, ovvero la lingua viva, quella che comunemente viene parlata. È possibile ascoltarla con i podcast, ma una cosa molto interessante da utilizzare sono le serie televisive. Tutte le serie televisive della RAI, televisione italiana, è possibile vederle sul portale della RAI, si chiama RAI Play. Questo portale sicuramente è visibile dall'Italia e dovrebbe essere visibile anche dall'estero, utilizzando qualche apposito sistema. Ti consiglio di verificare su internet, perché in questo modo tu potresti vedere tutte le serie televisive italiane in diretta. Ma se non dovessi riuscirci, io ti consiglio adesso tre serie televisive molto popolari in Italia che sono acquistabili anche su Amazon. La prima serie che ti consiglio è Don Matteo. Don Matteo è un personaggio molto popolare in Italia. Don Matteo è un prete detective che aiuta a risolvere i casi dei crimini più difficili nella piccola città umbra di Gubbio. Don Matteo collabora con i carabinieri locali e grazie alla sua intelligenza e alla sua conoscenza della comunità riesce a trovare sempre il colpevole e l'innocente all'interno di casi molto molto complicati. Questa serie è interessante non solo per la storia e per il linguaggio che è molto fresco e piano, regolare, ma anche perché puoi vedere la bellissima campagna umbra. I paesaggi sono veramente affascinanti, interessanti. Cambiamo regione e ci spostiamo nel Lazio e andiamo a visitare i Cesaroni. I Cesaroni è una serie ambientata a Roma e parla di una famiglia allargata. Giulio e Lucia sono due ex fidanzati che si rincontrano, si rinnamorano e decidono di andare a vivere insieme, insieme ai loro rispettivi figli e si crea così in questa grande casa romana una situazione divertente, a volte malinconica, a volte comica e così dolce e amara come la vita. Ti consiglio di guardare questa serie perché ci sono alcuni episodi, alcune scene, alcuni modi di fare che rispondono all'idea del pregiudizio sugli italiani, quindi molto comunicativi, chiacchieroni, allegri, appassionati. È molto divertente, guardala. E per ultima, ma non per importanza, ti consiglio la mia serie del cuore, il commissario Montalbano. Il commissario Montalbano è per l'appunto Salvo Montalbano, un commissario che lavora all'interno del commissariato di Vigata, insieme ad una squadra, a un gruppo di poliziotti, molto attenti ma anche divertenti. Vive una storia d'amore molto lunga e interessante con la sua fidanzata Lidia, ma subisce il fascino di altre donne, di altre amiche. È un uomo molto amato. È un commissario intelligente e profondo e riesce a risolvere anche i casi più difficili, i crimini più efferati. Trova sempre una soluzione grazie alla sua intelligenza e sensibilità. Tutte le donne italiane sono innamorate di Salvo Montalbano e segretamente anche io. E mi piace anche leggere i romanzi da cui nascono poi gli episodi televisivi. I romanzi sono scritti da Andrea Camilleri e sono dei romanzi sempre ben scritti, straordinariamente scritti e molto interessanti. Sono adatti però a livelli più avanzati perché ci sono molte parole e frasi in lingua, in lingua siciliana, in dialetto siciliano. È possibile però leggere questi libri in traduzione in inglese. Li ho visti varie volte in libreria. Bene, anche per oggi è tutto. Noi continuiamo questa conversazione sulla mia pagina Facebook. Ricordati di andare a scaricare il podcast della lezione dal mio sito internet e noi ci vediamo il 7 di luglio per un altro video in italiano. Ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!